Davide Bendotti è stato definito la promessa dello sci italiano e noi siamo qui con lui. Ciao Davide! Ciao! Allora, come sta andando questo campionato? Ma direi che è partito bene, oggi Slalom era la mia materia preferita. Non sappiamo ancora i risultati ufficiali, però credo un secondo posto sicuro dietro al vecchio lupo Lantaler, quindi una bella soddisfazione. Da quanto tempo hai che sci? Tre anni fa ho fatto l'incidente, quindi due annetti, però seriamente da quest'anno. Infatti dall'anno scorso, dagli ultimi italiani a quest'anno, ho fatto un grandissimo passo e spero di continuare su questo percorso. Beh, ci sono alcuni nomi importanti qui che ti hanno già menzionato come appunto nuovo sciatore dell'anno, nuova promessa dello sci. Ti senti così? Quali sono i tuoi progetti futuri? Beh, speriamo. Speriamo che questa responsabilità non diventi troppo un peso, però sì, sono convinto di continuare su questa strada e spero di poter dare delle belle soddisfazioni a tutti. Tutti quelli che mi stanno dando una mano a partire dalla mia società, dalla federazione, dalla mia famiglia, dal mio allenatore, tutti quelli che mi stanno vicini, che sono talmente tanti che se sto qui a fare l'elenco siamo qua ancora stasera. Quindi li ringraziamo tutti? Grazie a tutti, sì. Quanti allenamenti fai la settimana? Ma diciamo che bene o male vado a sciare anche tutti i giorni, un po' campo libero, un po' pali, però alla fine, come dice sempre il mio allenatore, quello che fai sull'isci va sempre bene, che sia salti, fuori pista, pali, campo libero, va tutto bene. Importante è sciare. Bene, allora noi di Ability Channel ti facciamo un grande in bocca al lupo e anche per domani, visto che correrai, reggerei anche domani. Grazie mille, speriamo anche domani, anche se gigante è un po' più dura. In bocca al lupo, grazie.